Buongiorno a tutti, una brevissima presentazione di Alsecure e delle soluzioni e prodotti che presentiamo sul mercato italiano. Alsecure è una società internazionale con sede in Svezia, è presente in 15 paesi, di cui 13 europei. Impiega circa 900 persone, servendo 50.000 clienti, sviluppando un giro d'affari di 160 milioni di euro. La nostra specializzazione sono soluzioni e prodotti per una connettività IoT sicura, quindi in particolare per la trasmissione sicura di segnalazioni critiche e di dati critici. In Italia l'offerta si basa al momento principalmente sulla famiglia di prodotti denominata Iris. Si tratta di comunicatori digitali di allarme indirizzati al mercato residenziale, prevalentemente, commerciale e business. In modo particolare però stiamo focalizzando l'attenzione e convogliando anche le richieste del mercato sulla soluzione denominata Iris 440, un comunicatore digitale certificato N5421 per il settore antincendio. Si tratta di una soluzione che noi denominiamo a prova di futuro, in quanto è già disponibile un doppio vettore di trasmissione IP e 4G e quindi già in grado di fare fronte al processo di dismissione delle linee analogiche che è già in corso nel resto d'Europa e che avverrà anche in Italia. La garanzia della comunicazione è garantita tramite un collegamento punto a punto tra il comunicatore e il centro di ricezione allarme e pertanto si è sempre in grado di poter supervisionare il funzionamento e l'efficienza della comunicazione del comunicatore. Per quanto riguarda il 2022 continueranno gli sviluppi e gli aggiornamenti tecnologici in base alle esigenze del mercato tra cui anche naturalmente il mercato italiano. Anzi con l'occasione desideriamo ringraziare tutti i nostri partner che ci hanno consentito di realizzare davvero dei risultati splendidi nel corso del 2021 e con i quali non vediamo l'ora di poter lavorare insieme anche per il 2022. Un saluto anche al mercato italiano a cui diciamo rivolgetevi ad AdSecure per un mondo più sicuro e più intelligente.